Buongiorno a tutti, ringrazio innanzitutto gli organizzatori per avermi invitato a questo convegno, porterò un breve contributo sullo riutilizzo di un'organizzazione romana nel territorio dei Bergari. In realtà la mia ricerca è un po' estesa tutta la barbagia, ma ho pensato per ragioni di tempo di limitare la presentazione dei risultati al solo territorio dei Bergari. Il territorio dei Bergari, per chi non lo sa e non lo conosce bene, si localizza nella Sardegna centro-orientale all'interno di quella che oggi è definita la barbagia di Nuro, ovvero il circondario montuoso di Nuro considerato appunto il capologo barbaricino, anche se culturalmente e da un punto di vista geomorfologico il territorio è da sempre legato alla barbagia di Olollai, della quale costituisce lo svolto al mare. Questo vasto territorio, proteso tra le montagne di Spermonte occidentale e le alte coste a Falesa di Spermonte marino, è stato recentemente oggetto di un nuovo censimento archeologico. Il lavoro realizzato da chi vi parla tra il 2010 e il 2011 nell'ambito del riordino delle conoscenze finalizzato alla redazione del book di Bergari, ha consentito di rilevare ben 82 siti di età romana. In almeno 56 casi si tratta di rioccupazione di villaggi e siti nuranici, questi dati sono ancora in fase di studio e su questo dato di 56 casi mi riservo di tornarci in mescito. I nurani notti nel territorio d'Orcali sono 43, questi 8 sono stati verosimilmente riutilizzati in età romana. Inoltre i siti romani sono stati rilevati nelle vicinanze di altri quattro nurani. Il caso meglio conosciuto è rappresentato da Nurani Manu. Il monumento è stato infatti scavato tra il 2002 e il 2003. Come si dice dalle foto, prima del 2002 il monumento non era assolutamente visitabile, era obliterato dal crollo da un deposito di 5 metri di altezza. Dopo il 2003 il monumento è tornato in luce e può essere anche visitato. Lo scavo della camera del nurani ha restituito una notevole quantità di materiali di età romana, costituiti per lo più da frammenti ceramici che testiamono l'utilizzo del monumento dall'età repubblicana, dall'età repubblicana, fino a tutto il periodo imperiale. La fase repubblicana è attestata dalla presenza di A3S1 nelle variante A, B e B, C, mentre la presenza di anfore africane dalle cilindri del primo e secondo tipo a quella di medie e grande dimensioni documentano la frequentazione del monumento nel corso di tutta l'età imperiale. Alle fasi più tardi di riempiego del monumento appartengono alcuni frammenti di anfore tipo spateion e di piatti di sigillata africana di protezione C e B. La sostanziale preponderanza di frammenti anforeci tra i reperti ceramici recuperati nello scato del murale consente di ipotizzare un ritorizzo del monumento come magazzino per la conservazione delle derrate alimentari connesso con l'abitato realizzato attorno a Nuova Gamannu in funzione di caposaldo commerciale nelle rotte terreniche che si sviluppavano lungo la costa orientale. Con forza a questa ipotesi il rinvenimento di frammenti di doia e di numerosi chiodi funzionali probabilmente alla messa in opera di strutture e linee portanti nelle quali erano conservati i contenitori ceramici. Le ultime indagini del 2005 e del 2006 hanno permesso di mettere in luce alcuni edifici sviluppati attorno a Nuova Gamannu che appartengono a un vasto insedimento civile costruito attorno a Nuova Gamannu nella circostante nel luogo dell'antico emporio. Questa è una parimetria più o meno aggiornata di quello che si può vedere oggi. Lo scavo è limitato, posso dire, a 10-20% dell'area dell'abitato che in realtà sono 2-3 ettari. Sulla base dello studio preliminare dei materiali, l'impianto e l'utilizzo degli edifici indagati si può scrivere al periodo completo tra la fine del III, inizio del IV secolo e la fine del VI, inizio del VII secolo. A breve distanza dal Nuova Gamannu si localizza il Nuova Gamannu che sono materiali in cui vengono il Nuova Gamannu. A breve distanza, sicuramente connesso topograficamente al Nuova Gamannu, si localizza il Nuova Gamannu. Il Nuova Gamannu è complesso circondato anch'esso da un vasto villaggio. Nell'area di questo villaggio si tenono venuti numerosi materiali di età romana. Tra questi segnala anche un denare d'argento messo dalla zecca di Roma nel 138 a.C. Nel sito di Nuraghear, localizzato nella periferia nord-occidentale di Calagonone, negli anni 20 del XX secolo Antonio Taramelli identificò e indagò una struttura che attribui all'età romana. Questo è il villaggio dopo che è stato liberato dalla vegetazione e il decespugliato, nelle bellissime foto scattate da Gianni Alvito. Ecco, nel cerchio rosso la struttura che Antonio Taramelli scavò e indagò negli anni 20. Ecco, in questo Nuova Gamannu c'è questa presenza che è tutta da verificare su come debba essere interpretata. Una presenza in questo contesto potrebbe essere in relazione a una delle tre vie che consentivano di valicare il sopramonte marino orientale che raggiunge il numero di siti dell'interno. Come vedete il Nuraghear si trova qui, il sito ramano è in prossimità di questa via che consentiva negli unici tre punti, questo e quest'altro, di valicare il sopramonte orientale e di accedere alle zone interne al sopramonte occidentale. Quindi un punto strategico nella viabilità. e quindi questa presenza potrebbe essere in relazione alla vicinanza di questo tracciato viario. Ancora vicino ai siti che ho menzionato e ancora nel sopramonte orientale, nell'area di Nuraghe divine, si segnala la presenza di abbondanti materiali di età romana, che sono distribuiti in grande quantità attorno al Nuraghe e nel villaggio, nel quale rimangono solo poche tracce che si costruì attorno al monumento. Anche questo sito si localizza effettivamente lungo un'importante strada di collegamento tra l'area costera e la regione interna. Nel Nuraghe su Castellum, qui ci allontaniamo dal sopramonte, andiamo alla zona fertile del territorio, e il verosimile riutilizzo del monumento, all'interno del quale sono stati rinvenuti i materiali romani, in verità mi si illuce da un scavo clandestino, si può mettere in relazione con il numero di siti età romana più elevati nella zona, e questa è una zona molto densa dei abitati, almeno 5-6 attorno al Nuraghe, e attorno al Nuraghe stesso c'è un abitato presumibilmente riutilizzato, l'età Nuraghe è riutilizzato fino all'altra età imperiale. In particolare si rileva attorno al monumento, proprio a bellissima istanza da Nuraghe, si rilevano importanti affidamenti di argilla che sono stati sfruttati dai ceramisti d'orgali che negli anni 70 e del 900, che sono fornacci moderne che utilizzavano questi affidamenti di argilla grigio-verde che sono nei migliori del territorio. Argille utilizzate prima della diffusione dell'argilla industriale che vengono da semine, Cività Castellana e Montelupo Fiorentino. Indagini archeometriche incrociate su campioni di tegola romane e su scarti di fornace moderni hanno dimostrato che in età romane si utilizzavano con ogni probabilità le argille definite appunto in letteratura geologica della formazione di Nuraghe su Castellio. Queste sono alcune delle foto, delle analisi petrografiche che anche visivamente permettono di capire come i due campioni sono assolutamente confrontabili. E' abbastanza grossimile che quelle argille, forse utilizzate in età protostegra, certamente utilizzate anche in età romane. Questo è davvero interessante. Attorno a Nuraghe Oveni, che si localizza vicino al villaggio di Sarraoro, sono ben noto, credo a tutti, o a Nuraghe San Nicola, o ancora a Nuraghe Sortei, nacono importanti insediamenti che si svilupparono in relazione allo sfruttamento per pastorare della parte pifferta del territorio del regale, appunto che è costituita da un vasto alto piano basaltico a circa 200 metri sopra il livello del mare. In altri casi, un riutilizzo può essere ipotizzato in quanto si tratta di Nuraghe localizzati in prossimità di siti di età romana, per lo più insediamenti o glomerati secondari. Ad esempio, Nuraghe Quazza, costruito sul monte Umonimo, sorge presso un abitato romano e controlla un tratto importante della viabilità secondaria di età antica, quella che è nota come strada romana, presumibilmente un tracciato antico, quello che si vede forse non è esattamente romano, ma certamente il tracciato viario è antico, protostorico e poi romano e forse anche medievale, anzi con ogni probabilità. Spostandoci alla costa di Calagonone, si può menzionare l'Uraghe la favorita. Ecco, nel tratto di mare antistante il monumento, sono stati rinvenuti i numeri di materiali anforici di età romana. Si tratta in effetti dell'unico settore della costa d'Orgare dove è possibile ipotizzare un approdo antico, quindi i materiali che si prevengono attorno al monumento sono forse pertinenti a un abitato organizzato attorno al monumento e certamente sono in relazione a un approdo, non inteso come porto, ma come davvero qualcosa di più semplice, che in quell'unico punto poteva essere costruito in relazione con l'Uraghe Manno e con l'Uraghe Argo. Anche l'Uraghe Frunconiedi, che domina dall'altro Calaluna, nota certamente ai turisti che visitano quella costa, si localizza presso un possibile approdo antico, tal quale si partiva una delle poche vie di penetrazione del supramonto orientale, come dimostrano gli invenimenti della zona. Ricordo i materiali rinvenuti presso Caraluna, di età romana, i conducibili ad anfore africane, oppure a quelle del campo di Bidunie, oppure le attestazioni di anfore massaliote, dresse l'1 e dresse l'2 e l'4 nel complesso speleologio di Sossidios, siti vicinissimi a Calaluna. E proprio lungo queste vie, dopo quasi 150 anni di conflitti, è proprio quando si celebravano gli ultimi trionfi sui sardi che si intensificò l'attività di abili mercanti italici, che muovendosi dalle coste della Sardegna centro-orientale, sulle antiche vie già percorse dai mercanti terrenici, diffusero nuovi modelli economici e culturali alla base del processo di romanizzazione della Barbagia. Ricordo ancora il Nuraghello, costruito a 880 metri sopra il livello del mare, in località Doina Nicolo, il campo carsico più famoso di Supramonte. A breve distanza dal monumento, che è localizzato in questo cerchio rosso, per 10 metri all'interno del territorio di Orgosolo, mentre qua, nel territorio di Orgali, si localizza l'abitato nuragico e sovrapposto ad esso un insediamento pastorale moderno. Quindi a breve distanza dal monumento si localizza un abitato romano sovrapposto a un villaggio nuragico. La zona è stata scelta, appunto, anche dai pastori di Orgali per scostruire i loro cuiles. Il nuraghe visto dall'alto è invece quella che è una struttura pastorale moderna, appunto un cuile frequentato dagli allevatori di Capri e di Orgali. In questo punto, tra l'altro, Roland segnalò l'invenimento di monete, ma sono solo in relazione all'abitato che sta a 200 metri prima. La presenza di un insediamento romano in questo luogo, che è perfettamente inserito nella rete commerciale dell'impero, come dimostrano i materiali inquinuti, nonostante sia un sito difficilmente raggiungibile, è da mettere in relazione con la presenza di un pascolo importante, appunto il campo, delle poche zone ferratili del sopramonte, e di una nota sorgente, proprio in questo punto c'è un importante sorgente, una delle pochissime della zona, nota a tutti gli escursionisti. Inoltre, Doina Nicolo, che sta qui, era attraversato da una delle vie principali di collegamento che, partendo dalla valle di Lanaito, passando presso Tiscali, consentiva di collegare il sopramonte occidentale, cioè tutta questa zona, alla zona più interna, che è la Barbagia di Orlollai. In effetti, come si vede, la via passava proprio in un punto preciso, che ancora oggi viene fatta dagli pastori delle transumanze, partendo da Tiscali, passando presso Tiscali, per meglio dire, passava presso Manifero, in un'ora e mezza si arrivava a un altro sito romano che è sassa inepida, di lì a San Giovanni, ed erano già a vista di Sorabile, ed è la strada che attraversava il centro della Sardegna, dalla quale qui ripropongo, ma non ne parlo, una ricostruzione del tratto tra Mamoiada, Nuvoro e Fonni. In conclusione, il rutilizzo dei nuraghi, o la rieoccupazione dei siti nuraghi durante l'età romana del territorio di Orgaglia, rappresenta l'esito della scelta operata dalle comunità antiche di occupare le zone più adatte al controllo e all'assolutamente economico del territorio, in quanto localizzate in prossimità delle vie principali di spostamento è oppresso l'area di Pasco, piccole aree coltivabili e sorgenti, e sorgenti in ultima analisi. Non è un caso che le vie della Transmanta molte volte coincidano con i tracciati protostorici e con le successive strade età romana, spesso ancora in uso ai nostri giorni, e che anche i Quiles, le tradizionali capanne pastorali, i Quiles, siano stati identificati nell'area del Kuning City nuragico-romani, ad esempio questa bella capanna nuragica, in realtà è solo la base nuragica, perché lo svettamento, la cresta murale è stata rifatta in età moderna ed è stata trasformata in un mobile, zona frequentata in età nuragica, ritorizzata in età romana e ancora oggi dai pastori del sopramonte. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. Grazie.